il cern è l'organizzazione europea per la ricerca nucleare e da diversi stati europei come stati membri che quindi vuol dire che sono che forniscono i fondi ma anche altri stati come gli stati uniti la russia il giappone collaborano alle ricerche che vengono condotte qui al cern è stato fondato nel 1954 il suo obiettivo fondamentale scoprire le leggi fondamentali che sono alla base dell'universo in cui viviamo quindi come fatto e come funziona l'universo e qui vengono impiegati macchine strumentazioni scientifiche tecnologiche tra le più avanzate nel mondo per poter appunto condurre questa ricerca sui costituenti basi basilari della materia cioè le particelle fondamentali questo viene fatto con due tipi di strumenti che sono gli acceleratori e i rivelatori di particelle tra gli acceleratori che fanno parte dei dispositivi di cui il cern è dotato c'è il famoso lhc large hadron collider che in italiano può essere tradotto con grande acceleratore di hadroni che è la macchina acceleratrice di particelle più grande esistente finora al mondo e che sta entrando in funzione proprio in questi giorni in maniera ancora sperimentale perché la macchina va capita ma comunque già si cominciano a far scontrare tra loro le prime particelle lhc è un anello di una circonferenza di 27 chilometri che si trova a 100 metri di profondità nel territorio tra la svizzera e la francia il cern appunto si trova vicino ginevra e ci sono quattro apparati sperimentali disseminati lungo la circonferenza di lhc che sono appunto composti di rivelatori che hanno lo scopo di studiare i prodotti che verranno fuori dalle collisioni delle particelle che verranno fatte girare nell'acceleratore l'esperimento CMS in particolare uno di questi quattro che CMS vuol dire compact muon solenoid ha come obiettivo quello di studiare qualsiasi tipo di nuova fisica che verrà fuori da queste collisioni ci si aspetta nuova fisica perché le collisioni verranno prodotte ad un'energia mai raggiunta finora e l'esperimento CMS si avvale dalla collaborazione di almeno 3000 scienziati provenienti da qualsiasi parte del mondo e questi collaborano ognuno a titolo diverso costruendo chi un tipo di sottorivelature chi un altro che costituiscono l'apparato sperimentale globale di CMS io personalmente vi faccio parte del gruppo che lavora per i Resistive Plate Chambers dell'apparato sperimentale CMS un rivelatore a gas che ha in CMS la rivelazione del passaggio di un determinato tipo di particelle chiamate muoni al momento mi qui al CERN con una borsa della università degli studi di Bari e appunto il gruppo delle università del Politecnico di Bari anche dell'INFN istituto nazionale di fisica nucleare sezione di Bari sono coinvolti nella messa a punto installazione e studio affinché le performance del rivelatore siano eccellenti e rispettino i requisiti con cui è stato progettato il travolta lavoro qui per i fisici al CERN non è qualcosa di regolare soprattutto in questi giorni in cui c'è il fascio ci si lavora anche di notte si lavora sabato e domenica ci sono più che orari a rispettare scadenze entro cui avere cose fatte e quindi si tratta sempre di risolvere problemi che si rivelano sull'impronta che si scoprono via facendo e che vanno risolti in maniera rapida ed efficace comunque qui al CERN si ha l'opportunità di lavorare con gente davvero in gamba proveniente da qualsiasi parte del mondo da cui imparare tanto e c'è la necessità di avere uno spirito di affiatamento con il proprio gruppo di lavoro per poter chiaramente ottimizzare le risorse umane e le proprie energie durante il lavoro spero che questo possa essere una qualcosa un buon punto di partenza in futuro su cui costruire la mia carriera